Quando la vita ti regala la gioia di un figlio, tutto il resto non conta. Eppure, il tuo cordone umbilicale serve ad un bambino malato di leucemia per salvargli la vita. Donagli la gioia di vivere. Dona il tuo cordone umbilicale. Te lo chiede la Adisco. Si chiama Adisco e raggruppa a livello nazionale tutte le donne che hanno donato il loro cordone umbilicale. Il sangue del cordone umbilicale che salva e è venuto a guarire da tante malattie. Do il benvenuto questa mattina al dottor Giuseppe Garrisi, specialista in ostetrice e ginecologia e presidente della Disco Puglia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Allora, dottor Garrisi, prima di scendere nel dettaglio, quindi spiegare le attività, gli scopi della Disco, partiamo appunto da questo dato di fatto che il sangue del cordone umbilicale serve a guarire da diverse malattie. Allora, che cos'è il sangue del cordone umbilicale? Beh, innanzitutto diciamo che cos'è il cordone umbilicale. Il cordone umbilicale è quel tratto di tessuto in cui sono comprese un'arteria e due vene che serve a trasportare il sangue dalla madre al bambino. Quindi serve a collegare la placenta, che è l'elemento che serve a nutrire il bambino, con la madre. Normalmente, una volta avvenuto il parto, la placenta e il cordone umbilicale vengono buttati via. Quindi in questo cordone umbilicale ci sono circa 100 cm3, 100 cc di sangue, che possono essere utilizzati. In che modo? E' stato visto che nel sangue del cordone umbilicale sono presenti delle cellule staminali. Queste cellule staminali equivalgono alle cellule staminali adulte, cioè una capacità di differenziarsi in altre cellule. Si iniziò a sperimentare in alcune malattie di tipo ematologico, che possono essere linfomi, leucemie, eccetera. Si vede che, trapiantando le cellule staminali presenti nel cordone umbilicale, si poteva guarire da queste malattie. Il primo episodio avvenne con l'anemia di Fanconi, un bambino affetto all'anemia di Fanconi, e furono utilizzate le cellule del cordone umbilicale. E quindi da lì poi è nata tutta la sperimentazione e tutta l'utilizzazione. Quindi si tratta di utilizzare del sangue che altrimenti viene buttato via. Un gesto davvero semplice, che alla mamma e al bambino non costano assolutamente nulla, non c'è nessun tipo di rischio. Dunque può curare le malattie del sangue principalmente? Sì, si possono curare prevalentemente le malattie del sangue, perché avendo solo 100 cc di sangue nel cordone umbilicale, noi abbiamo una quantità di cellule che in genere possono essere utilizzate per bambini, per ragazzi, fino a 50 kg di peso. Ho capito. E quindi, e soprattutto l'impiego lo troviamo appunto nelle malattie emopoietiche. Le leucemie appunto dei bambini, un bambino che ha 4-5 anni e sviluppa una leucemia, chiaramente può fare uso del, laddove ci sia una compatibilità in base al sistema HLA, si può utilizzare il sangue del cordone umbilicale. Quindi tutte le donne che hanno partorito possono donare il sangue del cordone umbilicale, oppure ci sono magari delle categorie a rischio che non possono farlo? Sì, tutte le donne potenzialmente possono, il requisito è che una donna stia in buona condizione di salute. Se una donna è in buone condizioni di salute può donare il sangue del cordone umbilicale. Ci sono sicuramente delle limitazioni che sono di natura ostetica, per esempio se abbiamo una iperpilessia, cioè un aumento della temperatura corporea materna superiore a 38 gradi, oppure se abbiamo una rottura delle membrane superiore a 12 ore, se ci sono infezioni. Quindi sono tutti elementi che escludono in quel caso la donazione. Ci sono dei rischi nel momento in cui viene donato il cordone umbilicale, il sangue del cordone umbilicale? Assolutamente no, non c'è nessun rischio, né per la mamma né per il bambino, anche perché una volta che il cordone è stato clampato, si può aspirare il sangue che è contenuto nel cordone. È una manovra semplice che si fa sia in sala parto sia in sala operatoria, quindi sia che si partorisca in maniera spontanea sia con taglio cesareo, la donazione può avvenire comunque. Basta addestrare il personale del centro di raccolta, che può essere il medico, l'ostetica, a fare un prelievo secondo determinate caratteristiche, perché poi deve rispondere a quelle caratteristiche di cellularità e di quantità che sono indispensabili per poter conservare il campione che andiamo a raccogliere. Ricordiamo che Caso Sollevo della Sofferenza, l'opera di Padre Pio, ospita da un paio d'anni circa la banca di raccolta del cordone umbilicale, grazie al dottor Lazzaro Di Mauro e Santo Di Rocco. Ecco, li abbiamo voluti ricordare in questa grande missione, davvero importante. Dottor Garisi, come si diventa donatrici di sangue del cordone umbilicale? Cioè prima del parto bisogna firmare un foglio, autorizzare naturalmente a far questo? Beh, intanto bisogna fare i comuni esami anche per la donazione del sangue, quindi è da vedere che non ci siano delle patologie che possono impedire la donazione del sangue. Poi bisogna fare un consenso informato. L'unica cosa che si richiede alla mamma è un controllo successivo a sei mesi della mamma e del bambino, perché il campione di sangue che viene prelevato e conservato, prima di essere bancato definitivamente, cioè conservato definitivamente, deve essere nuovamente esaminato alla luce dello stato di salute della mamma e del bambino. Ecco bene. Quindi si richiede un controllo successivo a sei mesi, ma no. Ma credo insomma che comunque per la mamma sia davvero una sciocchezza recarsi in ospedale e fare un altro controllo. Il sangue del cordone umbilicale nel nostro paese si può donare in qualsiasi ospedale, in qualsiasi regione? Beh, allora, diciamo che si può donare in qualsiasi regione. In qualsiasi ospedale no. Ah, ci sono dei centri di raccolta dedicati? Ci sono dei centri di raccolta. Per esempio, facciamo l'esempio della regione Puglia, qui nella nostra regione. Due anni fa, come diceva lei, è stata istituita a San Giovanni Rotondo la banca del sangue, la raccolta del sangue del cordone umbilicale. E sono stati istituiti dalla regione Puglia 14 centri di raccolta. Perché qual è stato il, diciamo, individuato il limite? Sono stati individuati quei centri nascita che avessero un numero superiore a mille parti anno. Ho capito. E quindi sono 14 centri. E questo poi è il compito nostro del volontariato della Disco, è quello di spingere ora la regione ad attivare ulteriori centri. Quello, infatti, che noi chiediamo è che si scenda a 500 parti anno e quindi, come minimo, raddoppiare i centri di raccolta. Un'altra curiosità che mi viene in mente, ma credo che sia anche una curiosità delle future mamme che magari ci stanno seguendo. Se una mamma appunto partorisce in Piemonte, il centro più, partorisce a Torino, il centro più vicino, non so, è a Biella, o magari, insomma, il contrario, come fare? Cioè, questo sangue può essere trasportato in un altro ospedale? No, ancora questo non viene fatto perché il personale deve essere addestrato dal punto nascita. Ho capito. E noi, insieme anche a Santo di Rocco, a Lazzaro di Mauro, cercheremo appunto, una volta che la regione autorizza l'apertura di ulteriori centri di raccolta, di addestrare il personale. L'ideale sarebbe estenderlo a tutti i punti di nascita, insomma. Questo sarebbe l'ideale. Infatti, io come adisco regionale ho chiesto che si partisse dai punti di nascita con 300 parti in poi. Mi rendo conto che questo magari può creare dei problemi organizzativi, ma anche perché la regione Puglia, tra un paio di anni, dovrebbe chiudere i punti di nascita con meno di 500 parti. Quindi se noi ammettiamo che si facciano i centri di raccolta da 500 parti in su, chiaramente abbiamo coperto tutta la regione. E quindi in tutti i punti di nascita si potrà donare. Si potrà donare. Lei, dottor Garisi, ci ha spiegato come avviene la donazione di sangue cordonale. Poi che cosa succede una volta che questo sangue viene raccolto? Allora, la banca di sangue cordonale, qui in San Gionio Rotondo, ha predisposto un sistema di raccolta per cui il centro di raccolta avvisa la banca, la banca si attiva e nell'arco di 36 ore il sangue arriva a San Gionio Rotondo. Questa è un'organizzazione che prevede una parte per il nord della Puglia, un sistema di raccolta di messi che vanno a prendere queste sacche di sangue cordonale per la parte, per il sud della Puglia. Quindi sicuramente anche prima delle 36 ore la sacca raggiunge la banca di San Gionio Rotondo. Quindi sono comunque delle sacche singole. Magari qualcuno può pensare che vi è messo tutto insieme in un grande calderone, invece no, tutto suddiviso, credo anche per gruppo sanguigno, altre caratteristiche che sono fondamentali per la compatibilità. Deve essere tipizzato, le dirò di più, proprio perché si è visto che ora questo sangue, questo quantitativo serve per bambini fino a 50 kg di peso, si sono fatti delle ricerche. Si è tentato per esempio di inserire il sangue di due sacche, quindi di due donatrici differenti. Però per ora si è visto che poi una colonia di cellule prevale sulle altre e quindi ancora questo non ha dato successo. Si stanno provando delle tecniche di arricchimento delle cellule per tentare di farle crescere e quindi avere un numero maggiore di cellularità e quindi anche una possibilità di curare persone con un peso superiore ai 50 kg. Sono tutte ricerche in corso. Ecco, tutto in corso, anche per questo è importante sostenere la ricerca. Allora, dottor Garesi, noi abbiamo un video di tre minuti realizzato dalla Disco Nazionale che vogliamo vedere insieme, che sicuramente ci illustra, ci dà delle notizie in più su quello che quotidianamente fa la Disco e non solo. Vediamo il servizio. Il trapianto rappresenta per molti bambini affetti da leucemie o da altre gravi formi tumorali la migliore o addirittura l'unica possibilità di guarigione. Il trapianto, nel corso dell'ultima decade, ha ottenuto straordinari risultati, in particolare per alcune malattie la probabilità di guarigione è oggi attorno all'85%. Per offrire il trapianto a un maggior numero di pazienti è ora possibile utilizzare il sangue placentare, sangue che contiene cellule staminali praticamente identiche a quelle presenti nel midollo osseo e che viene raccolto al momento del parto, un parto sia per via naturale sia tramite taglio cesareo. Il sangue raccolto viene messo all'interno di una sacca sterile e immediatamente trasportato alla banca del sangue del cordone umbilicale. Qui viene congelato ed è immediatamente disponibile per chiunque al mondo ne abbia bisogno per essere curato. Le cellule staminali del sangue cordonale sono dotate di elevata plasticità, sono già in grado di transdifferenziare in cellule staminali di altri organi e tessuti e, a differenza di quelle embrionali, non pongono problematiche di ordine etico. La manipolazione in laboratorio delle cellule staminali cordonali può essere particolarmente utile per la cura di malattie degenerative, siano esse del sistema nervoso centrale epatiche o cardiache, in quanto tali cellule sono in grado di rigenerare o di aiutare i tessuti danneggiati. Adisco diffonde la cultura della donazione e supporta la ricerca sulle cellule staminali cordonali. Ora sto molto bene, sono tornata quella di prima, ho tolto il tubicino e non prendo più molte medicine. Un anno fa ho fatto il trapianto di sangue di cordone umbilicale. Il trapianto è un afflepo, si aspetta un po', poi si forma il midollo nuovo. Dopo un po' di giorni mi hanno fatto il prelievo di midollo per vedere se era spuntato quello nuovo. C'era. Quando la vita ti regala la gioia di un figlio, tutto il resto non conta. Eppure, il tuo cordone umbilicale serve ad un bambino malato di leucemia per salvargli la vita. Donagli la gioia di vivere, dona il tuo cordone umbilicale, te lo chiedela a disco. Bene, dottor Garisi, abbiamo visto in questi tre minuti, rassunto chiaramente, ma come ci ha anche esposto lei, tutto quello che bisogna fare, la semplicità davvero della donazione del sangue di cordone umbilicale. È stata bella anche la testimonianza della bambina che ha detto, mi hanno piantato, ecco, mi hanno fatto questa flevo e mi è spuntato il nuovo midollo. Ecco, si salva davvero la vita a tanti bambini. Poi magari lanciate, prego, dottor. Io a proposito di questo, è proprio perché siamo qui a San Giovanni Rotondo, e intanto le banche sono in rete, cioè la banca di San Giovanni Rotondo è in rete con le altre banche nazionali e internazionali. E una cosa molto bella è che da San Giovanni Rotondo abbiamo, in base alla compatibilità che dicevamo prima, è stato mandato un campione, queste cellule staminali sono arrivate in Germania e hanno salvato la vita a un bimbo in Germania. Quindi, ecco, San Giovanni Rotondo già nell'arco di due anni ha raggiunto questi ottimi risultati, grazie a Lazzaro Di Mauro e a Santo Di Rocco che si stanno prodigando in maniera notevole in tutta la regione. Io oggi pomeriggio sarò con loro a Bisceglie perché avremo un convegno insieme e parleremo appunto della situazione in Puglia della donazione del cordone ombelicale. Benissimo, ecco, la disco esiste perché esistono delle donne che sono donatrici di sangue del cordone ombelicale, questo significa appunto questa dicitura a disco, quindi fin quando ci saranno queste donne che doneranno, la disco continuerà ad essere presente. Da quanto tempo siete presenti sul nostro territorio? Allora, la disco nazionale è nata nel 95, appunto da un gruppo di donne che sentivano, erano sensibili al problema e quindi sentivano la necessità di donare il cordone ombelicale. Noi a disco Puglia, a disco regionale, è nata nel 2007, quindi solo tre anni fa, ma è nata perché io da un punto di vista professionale, facendo il ginecologo, quindi l'osterica, avevo richiesta di molte donne che dicevano ma io in Puglia non si può donare, non esiste la banca, ha ancora di sangue cordonale. E quindi una sinergia fra l'attività professionale e anche, in un certo senso, io sono rotariano del distretto 2120, Puglia e Basilicata, e quindi ho coinvolto anche gli amici rotariani e siamo riusciti a istituire qui la sede regionale di a disco. Contemporaneamente la regione ha deciso finalmente di stabilire la sede della banca di sangue cordonale a San Giovanni Rotondo, e quindi si è partiti. Devo dire, vorrei dire qualche dato, perché per esempio noi abbiamo, nella Puglia abbiamo detto 14 centri di raccolta, in tutta Italia abbiamo 305 centri di raccolta, i di a disco regionali, sedi regionali in Italia ne abbiamo 12, e 13 sedi territoriali, sedi territoriali che hanno carattere provinciale e su 13 sedi territoriali, tre in questo momento le abbiamo in Puglia, ed è quindi l'intenzione di far istituire una sede territoriale in ogni provincia pugliese. Sarebbe una bella soddisfazione. E forse saremmo l'unica regione, perché se diciamo che le sedi regionali sono 12 e le territoriali sono 13, gli altri hanno una sede territoriale per ogni regione, noi riusciremmo ad avere una sede territoriale per ogni provincia, che è molto importante per sensibilizzare le persone e la donazione. Ecco appunto, sensibilizzare, questa immagino l'attività principale della disco, perché lei prima mi diceva a microfoni spenti dove è presente la disco, c'è anche maggiore diffusione della cultura della donazione. Sì, la presenza del volontariato, la presenza di persone che sensibilizzino al problema della donazione è fondamentale. Noi abbiamo su 14 centri di raccolta, abbiamo visto per esempio a Biceglie, Lecce, ma anche Bari, dove esiste a disco come sede e la donazione è maggiore, perché c'è una sensibilizzazione. Per esempio abbiamo Brindisi e Taranto, esistono centri di raccolta, ma le donazioni sono poche, perché non si ha la sensibilizzazione a monte durante la gravidanza, eccetera, quindi si dovrebbe fare la sensibilizzazione nelle scuole, nei corsi di preparazione al parto, perché spiegare che è una cosa semplicissima e che non procura danno né alla mamma né al bambino. Ma se mi consente c'è un motivo fondamentale dal mio punto di vista, che laddove noi non siamo presenti, sorgono, spuntano queste banche, le banche che sono situate all'estero e che ne fanno un business della conservazione del cordone americano. Mi spiego meglio. In Italia, per la legge italiana, è prevista la donazione, è prevista la conservazione cosiddetta dedicata, che cosa vuol dire? Vuol dire che se una famiglia o una coppia hanno un bambino affetto da una patologia che abbiamo detto prima, ematologica, eccetera, è possibile conservare il sangue del cordone di un secondo figlio per quella famiglia o per quella coppia, perché vi può essere un 25% di probabilità di compatibilità maggiore. non è prevista la conservazione per uso proprio. Perché? Perché si è dimostrato anche scientificamente che al momento non serve a nulla. Perché se un bambino di cui io ho conservato il cordone a 3-4 anni mi sviluppa un linfoma, una leucemia, io forse sarei, non dico un folle, ma sbaglierei se trapiantassi le cellule che provengono dal suo stesso cordone, nel quale ci potrebbero essere precursori della malattia. Ho capito. Quindi, appunto, volevo, lei mi ha anticipato, volevo appunto farle questa domanda, chiedere che cosa ne pensa a proposito di questo, dell'uso proprio in banche private all'estero. Perché si sente di tante persone, soprattutto persone che hanno una certa disponibilità economica, perché è tutto lì il punto, che dicono io conservo il sangue del cordone umbilicale perché un giorno potrà servire a mio figlio. Queste persone lo fanno sicuramente in buona fede, mettendo mano al loro portafoglio, però penso che siano state oggetto di una informazione non corretta, ecco, quindi l'importanza dell'informazione corretta. Perché se noi diciamo che con questo tipo di cellule possiamo curare l'infarto, possiamo curare il Parkinson, possiamo curare le cartilagini delle articolazioni, stiamo dicendo che le cellule staminali servono a questo. Però omettiamo di dire che l'infarto, il Parkinson, eccetera, non avverranno nei primi 10-15 anni di vita, perché il limite temporale in cui noi conserviamo queste sacche è quello 10 massimo 15 anni. Un'altra cosa importante è che siccome non si ha questa corretta informazione, passa il messaggio che non si è dei buoni genitori se non si conserva il sangue per il proprio figlio. Il che così non è, perché abbiamo detto prima, se il bambino sviluppa una leucemia, un linfoma, non è il caso di trasfondere le cellule che provengono dal suo stesso cordone. Ecco perché in Italia non è consentita, non perché in Italia ci sia qualcuno che non vuole... Certo, che si guarisca dalle malattie. Laddove si dovesse presentare una dimostrazione scientifica della possibilità di utilizzo, allora ben venga, sicuramente in Italia si potranno conservare per se stessi. Allora, dottor Garisi, spieghiamo un'altra volta, ribadiamo il concetto. In Italia la legge non permette la conservazione del sangue del cordone ombilicale per uso proprio. Però lei mi diceva che se una famiglia ha conservato il sangue del cordone ombilicale del primo figlio, è il secondo, sia male, è possibile utilizzare questo sangue per il secondo figlio? No, in genere è il contrario. È il contrario. Se il primo bimbo, se una famiglia ha un bimbo affetto da una patologia, il sangue, il cordone ombilicale del secondo figlio possono essere conservate per quella famiglia. Si chiama conservazione dedicata. Dedicata, perfetto, benissimo. Volevo dire che, d'altra parte, se noi lo conserviamo egoisticamente per noi, viene meno il principio della donazione. Esatto. È come se noi, ognuno di noi, conservasse il sangue per se stesso. Allora, la donazione del sangue in Italia non ci sarebbe. Purtroppo, quando ci capita spesso di parlare, di sensibilizzare il nostro pubblico e chi ci segue sulla donazione del sangue, del midollo osso, insomma, l'Admo, l'Avis e tante altre associazioni che davvero si battono quotidianamente per diffondere la cultura della donazione, che però nel nostro paese manca. Ci sono ancora tanti pregiudizi, tanta ignoranza, però nel senso positivo che non si conoscono i benefici che può avere un donatore di sangue oppure i rischi che sono davvero minimi anche nella donazione di midollo osseo. Non c'è la cultura della donazione. Purtroppo mi pare di aver capito questo. Sì, le dirò di più. Non c'è, e non essendoci questa cultura della donazione, sul territorio, la Disco molto spesso collabora, per esempio, con gli amici che si occupano della donazione di organi, di organi e tessuti, di donazione di rene, di altri organi, eccetera. Perché se noi facciamo un approccio rivolto alla vita, perché la donazione del cordone riguarda la vita, possiamo forse far capire dopo anche la necessità di dover donare di organi che sono funzionanti e che invece verrebbero, dopo la morte, non utilizzati. È chiaro che c'è una remora molto spesso nelle persone sul concetto di morte, morte cerebrale, e su quello bisogna insistere e spiegare. Però, come ho detto prima, è fondamentale l'informazione e soprattutto l'informazione corretta. Allora, Dottor Garisi, intanto abbiamo visto anche durante la nostra intervista il sito della Disco nazionale, su quale poi si trovano, ecco, grazie alla regia di Mario, www.adisco.it, sul quale poi si trovano tutte le informazioni per contattare la Disco sul vostro territorio, e quindi su tutta la nostra Italia, con i numeri di telefono, i vari recapiti telefonici. Vogliamo lanciare un appello alle mamme che sono in attesa, ma dire anche ai papà, perché se i papà sono tranquilli, lo sono anche le mamme e viceversa. Lanciamo un appello affinché davvero compiano questo gesto, di cui abbiamo detto non c'è nessun rischio per la mamma e per il bambino. Io credo che donare, innanzitutto donare qualcosa che va perduto, che non viene, sarebbe, e poter dare attraverso questa qualcosa che invece va perduto, la possibilità di vivere o la possibilità di far guarire bambini affetti da patologie serie sia fondamentale. Quindi, voglio dire, è chiaro che uno dovrebbe sentire proprio come impulso, impulso personale nel fare questo. D'altra parte, la gravidanza è un momento molto bello in una famiglia, anche da parte della donna ci sono degli aspetti di tipo psicologico, emotivo, eccetera. E quindi pensare che attraverso la propria gravidanza si possa consentire una vita normale ad altri bimbi che soffrono penso che sia la cosa più bella. Bene, allora, mamme e papà all'ascolto, se siete in attesa di un bambino, sappiate che potete fare davvero un gesto di grande altruismo nei confronti del prossimo, chiunque esso sia, però parliamo di bambini, quindi contattate la DISCO oppure il vostro medico di fiducia, il vostro ginecologo, credo che siano anche loro informati sulla donazione del sangue del cordone umbilicale, quindi fate davvero questo gesto, ve lo chiediamo noi, ve lo chiede la DISCO. Dottor Garrisi, grazie davvero per essere stato con noi quest'oggi, lei viene da Lecce, quindi ha dovuto guidare parecchio per essere a San Giovanni Rotondo, ma davvero la ringraziamo di cuore per la bella testimonianza che ci ha dato, per la chiarezza con la quale ci ha spiegato che cos'è la DISCO e la realtà della donazione del sangue del cordone umbilicale. Grazie ancora, buon lavoro. Sono io che ringrazio voi perché come dicevo prima è importante la corretta informazione e quindi qualsiasi contributo in questa direzione penso sia fondamentale per tutti. Grazie ancora, speriamo che magari presto ci sia una DISCO anche a San Giovanni Rotondo, perché no, ce lo auguriamo come obiettivo futuro. Sicuramente c'è l'obiettivo di creare una sede provinciale a DISCO a Foggia e Provincia, insomma, forse poi a San Giovanni Rotondo è ancora meglio. Grazie ancora al dottor Garisi per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qualche istante. Subito dopo c'è un'interessante intervista realizzata dalla collega Anna Maria Salvemini al professor Luciano Riccardi. Parleremo ancora una volta di educazione. State con noi. Quando la vita ti regala la gioia di un figlio, tutto il resto non conta. eppure il tuo cordone umbilicale serve ad un bambino malato di leucemia per salvargli la vita. Donagli la gioia di vivere. Dona il tuo cordone umbilicale. Te lo chiedela a DISCO.